Un buon Verona, soprattutto nella ripresa, impone rimonta la Lazio e impone il pari al Berdegodi e uno a uno, gara dalle tante emozioni. Dong sbaglia un semplice tappin sulle spinta corta di Provedel, bravo Ngonce a rubare palla a centrocampo, tiro poi largo, occasione ghiotta per i mobili, palla lontano dal pari, bravo Provedel su De Paoli. Proprio al 45esimo, Pedro riceve in aria e inventa una girata che non dà scampo a Moncipò. Verona l'assalto dopo l'intervando al 51esimo pari di Gonge che anticipa Casale sulla parabola di Lazzovic. Dopo il secondo serbo c'entra il palo, poi tocca a Provedel neutralizzare Doink. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifiche e un commento. Ciao!